E' stata assegnata a Jolly Racing Team la Coppa Rally di zona Toscana-Umbria relativa alla stagione sportiva 2019. Il sudalizio larcianese è stato premiato da ACI Sport come miglior classificato nella serie che interessa le due aree geografiche grazie alle prestazioni offerte dai propri piloti in campo gara. Una cerimonia posticipata a causa dell'emergenza epidemiologica, ma che nei saloni dell'Automobile Club di Lucca, sede dell'evento, ha reso assoluta protagonista la squadra capitanata dalla presidente Cinzia Chiti, entusiasta del riconoscimento da parte dei vertici federali. Questo grande risultato lo voglio condividere con i nostri piloti perché naturalmente se si ottengono questi risultati è un lavoro di squadra e Jolly Racing Team su questo punta molto. Nell'occasione è stato premiato anche Gianni Lazzari, primo attore nella classe Super 1600 e parte integrante di un risultato globale che ha proiettato la scuderia Valdinievolina al vertice della serie interregionale. Sì, è stata una doppia sorpresa sia per quanto riguarda me e Gianni Lazzari che un po' me l'aspettavo, però la sorpresa più grande è stata quella della premiazione della coppa di scuderia come Jolly la sentiamo. Il giusto merito per ognuno di noi che nel 2019 avevamo messo tutto l'impegno per ottenere i nostri risultati. No 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 Grazie.